In soli tre mesi il governo del cambiamento ha già portato a casa risultati importanti per il mondo della scuola. Lo abbiamo scritto a chiare lettere nel programma del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo ribadito nel contratto di governo e ora passiamo dalle intenzioni all'azione concreta. Stiamo smontando pezzo dopo pezzo la buona scuola di Renzi per ripartire su nuove basi. Vi raccontiamo ciò che Governo e Parlamento insieme stanno mettendo in campo per sottrarre insegnanti e personale dalla morsa della precarietà. Iniziamo dal primo tassello della buona scuola che abbiamo smontato, quello che prevedeva il licenziamento dopo 36 mesi di servizio di docenti e personale ATA precario. Avete capito bene, queste persone entravano nel mondo della scuola e poi venivano espulse nonostante ci fossero posti vacanti e disponibili. Con un emendamento al decreto dignità abbiamo abrogato questa norma mettendo fine a una follia di Stato che per giunta era in contrasto con una direttiva europea. Ci siamo messi dalla parte dei lavoratori della scuola e abbiamo riportato un po' di giustizia dando una prospettiva ai lavoratori che per tre anni hanno profuso il loro impegno all'interno delle scuole italiane. Non accadrà più d'ora in poi, il nostro impegno andrà nella direzione di rendere il contratto a tempo indeterminato la regola, non l'eccezione. Già quest'anno saranno stabilizzate 57.000 persone presenti nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle concorsuali. Ci saranno concorsi biennali sia per chi ha svolto supplenze annuali sull'organico di diritto sia per chi si è visto reiterare il contratto a termine in organico di fatto. È una prima importante vittoria che ci incoraggia ad andare avanti perché sono tante le cose che vogliamo e dobbiamo migliorare.